amici del canale buongiorno buongiorno dal vostro nick juve ieri giornata come abbiamo già discusso e disquisito legata alla questione inchiesta alla questione avvocati magistratura eccetera eccetera ma giornata anche legata ad alcune partite di nazionale no con questo non so voi come la pensiate non so voi cosa avete in mente ma osservo vlaovic e mi rendo conto di avere due calciatori completamente diversi un vlaovic in nazionale nella sua serbia e un vlaovic nella juventus voi direte adesso si sta iniziando inizierà magari ad andare a favore di allegri o contro allegri no stiamo calmi respiriamo è semplicemente un un discorso generale perché vorrei capire nella mente di questi calciatori moderni qual è il loro pensiero che cose che gli passa per la mente e andare a carpire quali potrebbero essere le motivazioni per quanto in tanti potrebbero dire beh vacci tu a giocare in quella squadra come la juve facci tu a giocare con quel modulo con quei compagni di reparto che ti assistono non ti assistono beh credo che nella serbia a parte forse mitrovic a parte milinkovic savic e kostic anche se ieri mancava non credo ci siano tutti questi grandi campioni detto questo io ho un altro mio pensiero perché al solito io penso sempre diversamente da quello che gli altri vedono o mi vogliono far vedere come sappiamo ormai da sempre noi siamo l'argomento del giorno di conseguenza media telegiornali giornali tv vogliono farmi vedere che ovviamente vlaovic con allegri è un calciatore vlaovic senza allegri è in nazionale totalmente un altro calciatore o vlaovic con italiano era un calciatore con brandelli era un calciatore con allegri era totalmente un altro calciatore beh io dico un'altra cosa ancora vlaovic era un altro calciatore prendeva circa due milioni e mezzo tre all'anno vlaovic è diventato un altro calciatore ne prende sette l'anno non vorrei vlaovic si fosse messo in testa di voler diventare un altro calciatore ancora quello che ne prende 10 12 e allora beh capite bene che magari ormai l'interesse dei tanti non è più quello di onorare i contratti onorare le maglie rimanere per anni nelle squadre che ti stanno riempendo il culo che ti hanno appoggiato ti hanno sostenuto hanno sposato la tua causa con compensi abbastanza importanti e ti hanno preso da una squadra normale semplice come la fiorentina in una squadra che tendenzialmente lotta e ambisce a vincere tutto però mentre una volta c'era gratitudine c'era riconoscenza c'era attaccamento alla maglia c'era c'era il sudare per quella maglia adesso c'è il che dici procuratore tu come la vedi pensi che possiamo prenderne più di sette meno ma guarda quante partite hai fatto hai avuto la pulbagia vabbè non fa niente che hai avuto la pulbagia stai tranquillo io credo sia ho capito che siamo al 2023 il calcio si è evoluto quando mi dice qualcuno lo sai doma il calcio si è evoluto no il calcio si è involuto perché in mano a dei vigliacchi e in mano a dei calciatori che dei propri club non gliene frega un cazzo ti guardi le partite e non sai a volte se non si impegnano perché sono fuori condizione o fuori forma o se non si impegnano perché hanno già in mente che devono un po fare la vacchetta perché vogliono andare in altri club o se ce l'hanno con l'allenatore o se non vanno d'accordo con i propri compagni mentre un tempo un tempo magari ci si attaccava di più dalla maglia nella nelle mura e tra le mura degli spogliatoi ma c'era più onestà intellettuale c'era più gente umana c'era più gente con i contro coglioni non gente che vuole far vedere al mondo vedete quando vado in nazionale sono totalmente un altro giocatore la colpa non è mia fate un'analisi e capite di chi è la colpa magari di chi mi gestisce di chi mi allena e no caro amico mio no caro amico mio perché se tu stoppi il pallone e il pallone lo stoppi a un metro e mezzo beh sai lì i piedi sono i tuoi sono i miei non sono quelli di chi sta seguendo come me questo video o dell'allenatore se per fare una sponda e aprire e allargare il gioco a destra o a sinistra lo allarghi solo verso la sinistra perché con l'altro piede ancora non sei in grado di calciare non è colpa mia non è colpa mia se però il mondo adesso giornalistico mediatico eccetera eccetera appena fai 20 30 gol questo è il terzo dopo mbappé dopo holland e il secondo dopo lewandowski alma alma bevete di meno fumate di meno fate una vita un po più regolare e avrete dei risultati migliori perché purtroppo il mondo odierno del calcio è quello che al minimo alla minima doppietta retegrini fa due reteghi fa due gol questo è un calciatore assolutamente da prendere perché è un calciatore che può stare benissimo tra le fila di juventus napoli inter milan rome e lazio cagate le solite cagate le solite cagate solite cagate già sentite con scamacca solite cagate già sentite con beto solite cagate sentite con vlovic solite cagate sentite da con lukaku quando io dicevo e sostenevo guardate che lukaku è lukaku perché antonio conte è riuscito a costruirgli addosso un sistema di gioco che valorizza lui riesce a far salire i compagni a giocare di sponda e a essere più decisivo e a fare anche gol vedrete che quando lavora con simone in zaghi quello diventerà un calciatore nullo no ma che dici no ma non esiste guardatelo il calcio e guardiamolo ok non è tanto difficile è molto semplice non si tratta di mandare missili sulla luna quindi io in questo contesto del campione italiano dove è facile dire che un allenatore scarso che l'allenatore forte una volta paolo sousa una volta tudor una volta iurici una volta andonio agghiacciando e conde agghiacciando quello che mi è successo una volta allegri quando vince poi diventa scarso poi simone in zaghi si vince la supercoppa italiana il campionato ognuno a modo proprio e quello è l'allenatore dal quale prendere esempio calma calma ho capito che bisogna vendere copie dei giornali che bisogna anche giustamente argomentare le cose il più delle volte siamo noi l'argomento principale ma ci vuole anche un po più di distaccamento e un po più di razionalità in quello che andiamo a dire ragazzi era un mio piccolo sfogo un piccolo pensiero su vlavic sulla juve su allegri per capire un attimino di chi può essere la colpa fermo restando che per me se un calciatore a fine anno ha già deciso che se ne vuole andare se ne vada pure per me il calciatore deve amare il contesto nel quale è è la maglia per la quale gioca se è la maglia e il club devono essere un tramite per riuscire a guadagnare di più per me hanno benissimo una via molto molto semplice aprono l'armadietto lo riempiano con tutto quello che hanno lo anzi lo svuotino da tutto quello che hanno riempiano i loro borsoni le loro valigette slascino le loro ville ben comode e ben fornite di tutto e si levino dalle palle perché io di mercenari veramente veramente me ne sono rotto le palle usate il linguaggio a volte poco corretto e poco pulito so che continuate a seguirmi so che continuate a sostenermi aiutatemi sempre di più a crescere nel canale mettete un like anche a questo video se vi è piaciuto un abbraccio a tutti dal vostro nick juve e sempre fino alla fine ciao ciao